Fermati ladro! Ridammi quelle mele! Comotti! Perché picchiate questo ragazzo? È venuto qui a rubare, come tutti gli amici suoi. Bussano alla porta se non c'è nessuno. Ripuliscono la dispensa. Ma a voi cosa importa? Mi importa perché questo ragazzo è un mio amico. Andate. Andate, Comotti! Come ti chiami? Buzzetti Giuseppe d'Asti, padre. Quanti anni hai, Buzzetti Giuseppe d'Asti? 15. E alla tua età hai già i capelli bianchi? No. È calce. Io e mio fratello siamo venuti qui a fare i muratori. Aiutiamo nostro padre a pagare i debiti. Se no finisce in prigione. Immagino che di andare a scuola non se ne parli proprio, vero? A scuola? Ci manca pure quello. Perché? Non ti piacerebbe imparare a leggere e a scrivere? No. I più piccoli mi riderebbero dietro. Loro sanno già leggere e scrivere. Io invece sono un alfabeto. Aspetta Giuseppe, aspetta! Lo sai chi è questo? Sì. È nostro Signore, Gesù Cristo. Hai visto? Sei molto più di quello che pensi. Se vuoi ogni tanto vuoi venire qua, potresti imparare molte cose. Davvero. Anche a leggere e scrivere? Sì. Allora, che ne dici? Ma il sacrestano non mi mena più, però. Sta tranquillo. Niente più bastonate. Buzzetti Giuseppe! Sì. 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 Sì.